Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video. Oggi parleremo della renna. La renna è nota anche come caribù in America del Nord ed è molto diffusa in Lapponia e in Finlandia. Ha un'altezza che arriva al garese fino a 150 cm e una velocità che arriva fino a 50 km orari, quindi è molto veloce. Ha una vita media di 20 anni, però diciamo che la renna domestica è quella che arriva più longeva, mentre quelle che sono in cattività di solito o perché vengono cacciate o anche per la scarsa vegetazione non sopravvivono molto a lungo. L'uomo in Lapponia usa la renna per trainare le slitte, anche in Russia avvengono queste cose, infatti come ho detto prima le renne domestiche sono quelle che vengono diciamo sfruttate di più per il lavoro ma non neanche troppo in modo negativo perché comunque sono trattate bene. Parlando come ho detto prima di peso, di altezze, le femmine di renna generalmente misurano 162-200 cm di lunghezza, quindi arrivano fino a 2 metri e pesano fino a 120 kg, mentre i maschi arrivano fino a 2,14 m e pesano fino a 210 kg. La differenza tra renne domestiche e renne selvatiche è che le renne domestiche hanno zampe più corte e sono più pesanti delle loro cugine selvatiche diciamo perché le renne domestiche sono quelle che vengono usate anche per trainare la slitta, come magari ho fatto l'esempio anche prima. Il parto delle renne invece avviene nei periodi dove la mandria diciamo è più in un posto caldo perché così il cucciolo non soffre troppo freddo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi e buon Natale. Ciao!